In questa stanza è stato realizzato l'archivio della Real Casa dei Matti, dove possiamo trovare documentazione risalente al 1832. Oltre che sono le cartelle cliniche degli ammalati, vi è anche presente una documentazione amministrativa, nonché gli atti del Consiglio di amministrazione dell'epoca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E alle mie spalle io vedo qualcosa di curioso. Che cosa sono? Sono guante di contenzione che venivano utilizzate per legare l'ammalato, per evitare che si potesse dare pugno, scaffeggiarsi, farsi del male. Sono stati peraltro recuperati anche gli indumenti che venivano utilizzati dagli ammalati, qualche attraversa che veniva messa nel letto per immobilizzare l'ammalato. Qui ci troviamo in una delle stanze ferite, stanze ferite appunto perché rimaste vuote, perché raccontano, evocano, parlano da sole e raccontandoci la sofferenza e il dolore dei matti. Dove non manco mai comunque in queste stanze, quel raggio di sole che costituì la speranza di un giorno di poter uscire fuori. Io vedo che sul fitto c'è scritto qualcosa. Sì, amo la piper. Tutti si chiedono, ma come mai sono riusciti a lasciare questo tangibile segno lì sopra? Io questo non me lo so spiegare, però l'unica cosa che posso dire è che quasi eravamo nel luogo della follia. Sì, amo la piper. Sì, amo la piper. 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 La piper.